Ciao a tutti, allora oggi il dito nero faccio sta ricetta in cui sono diventato bravo il re, il re il re, il barbudo allora, dicevo che sono diventato bravo, l'ho perfezionata facendola diverse volte e ho trovato la ricetta giusta sul web alla fine, su internet la prima cosa che devo fare è mettere a sciogliere il burro, perchè sono un po' scotta e mi coce le uova mi servono 45 grammi di burro ma poi che sta da fare? fa la regista che mi dice quello che devo fare ok, che ti ho detto? guarda il burro allora, ecco il burro il burro adesso lo mettiamo al microonde mettiamo un minuto così si squaglia tutto si squaglia anche il burro allora, adesso ne serve trecentosettantacinque grammi di farina eh, dimmettina cipollari devi imparare a farli via di mezzo ah quindi un pochino in quadro il burro un po' a tutto, un po' alla testa così un po' a casa con la farina ma siete acciuata stai sbagliando il burro stai sbagliando il burro esplode il burro è un pochino in quadro ad esempio in valutazione Abbiamo Spiderman E' matta E' lo zucchero 5,60 più 112 Qui ci vuole un pizzico di sole Allora adesso prepariamo gli ingredienti liquidi Mi ne soccorto solo adesso Mi ne soccorto solo adesso Che sto dondolando Oddio Buon signor Sono messi male ragazzi Allora le uova 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 Bisogna sbattere le uova 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 Burro Uova Si Si è raffreddato Si è sciolato Ho fatto uno sbaglio Cioè? Dov'è essere il controllo Abbiamo rimediato Prendi una marisa tutta colorata Un attimo sto scolando il verde Mi piace Questa è la ciotola girevole Questa è la ciotola Ciotola girevole Andiamo via la ciotola Ciotola girevole Adesso ci mettiamo un lievito Anche questo lo setaccio Adesso I pancake sono Cioè l'impasto è pronto Allora di solito il primo pancake che faccio non viene mai bene Non so perché Forse devo regolare la fiamma Ancora non ce lo so Anziogeno e la metto Le frittelle Più le fai più sono belle